Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio Ci ritroviamo su One Punch Man The Strongest Man E ho notato che il primo episodio addirittura ha fatto un sacco di visite E la cosa un po' mi ha sorpreso a dire la verità Perché non pensavo effettivamente vi potesse piacere un tipo di gioco simile Ovviamente ci sono tante cose che devo dirvi Tante cose su cui mi sono aggiornato in questo periodo In cui non ho portato nessun video riguardante questo nuovo giochino Che per l'appunto è un accesso anticipato Che si può scaricare tramite l'applicazione Q-App Che è praticamente una sorta di store di tutti i vari giochini Così per Android e per smartphone in generale Di versione giapponese Ancora non è stato rilasciato ufficialmente all'interno del Play Store Però all'interno dell'applicazione Q-App è possibile trovarlo Basta che scriviate One Punch Man e lo trovate subito Vi registrate e dopodiché cominciate la vostra avventura Come vi ho fatto vedere nel video scorso Io ho rerollato Ho rerollato perché avevo intenzione di portare comunque dei video Dove magari pullavo e avrei trovato in un qualche modo una SSR Dato che comunque in questo gioco le SSR sono abbastanza difficili Questo ovviamente lasciamo perdere Che a quanto ho capito è un evento Che comincerà tra 8 ore e mezza più o meno Quindi sarà appunto un evento dove forse sarà possibile ottenere Boros Tramite delle summon particolari Non ho capito bene in che modo si svolgeranno queste summon Però sicuramente domani o comunque tra 8 ore e mezza Avrò tantissime info in più Quello che mi interessava fare a me Vedete Cioè praticamente bisognerà prendere poi cristalli e gemme In modo tale da ottenere questi ticket neri Con questi pugni neri Per possibilmente tentare di trovare Boros Dato che i ticket che noi utilizziamo solitamente sono questi qua Oggi vi voglio portare innanzitutto un pool di questi 10 ticket che ho accumulato Per vedere se riusciamo effettivamente a trovare un SSR Che come potete vedere sono queste che si possono vedere a schermo Quindi abbiamo Tank Top Master Il Re del Sottosuolo Tatsumaki Atomic Samurai Poi il primissimo boss Che è quello della spazzatura Che non mi ricordo dell'inquinamento Non mi ricordo il nome effettivamente in italiano Poi Scarabeo Asura Pripri Prisoner Il Re degli Abissi E Imperatorino Che sono praticamente gli SSR Che si possono trovare all'interno di questa badge Però notate come le percentuali di SSR Sì addirittura dell'1,3% Mentre invece le SR hanno una percentuale del 10% E invece le Rare dell'88,7% Queste diciamo sono le badge premium Se possiamo chiamarle così Perché per l'appunto hanno un tasso elevato di SSR E non presentano carte non comuni Mentre invece questa qua è la badge Quella diciamo normale La badge quella un po' più classica Forse possiamo dirla così Quella per i free to play anche Dato che ogni giorno sarà possibile Fare una summon Gratuita all'interno di questo banner Quindi direi abbastanza comodo Da questo punto di vista Dove abbiamo degli SSR simili Abbiamo soltanto un SSR in più Che è praticamente lui Questo che sto tappando in questo momento Che è praticamente Il guardiano della nave di Boros Che non ricordo adesso come si chiamava Però era quello che praticamente aveva le palline Che permettevano di rigenerarlo Quindi probabilmente potrebbe essere una buona SSR Però come notate qui la percentuale addirittura È dello 0,5% Di riuscita nel trovare appunto Un SSR Quindi diciamo che qua effettivamente Le percentuali sono decisamente più basse Anche un SR 6,5 Le rare addirittura il 43 E invece il 50% che ti esca una non comune Ovviamente il 50% quindi vuol dire Che una summon su due Almeno secondo i numeri Ti dà una non comune Una cosa che però ho notato Effettivamente di questo gioco È che per la prima volta credo Non penso sia sempre così Che dopo la quinta summon Cioè dopo la quinta multisummon Dovresti ottenere una SSR garantita Quindi questo diciamo che forse ti addolcisce la pillola Però diciamo che già 5 multisummon A parte che se dovessi acquistare i cristalli In questo modo le gemme Sarebbero veramente tanti tanti soldi Però non so Forse una sola SSR dopo le 5 multisummon Mi sembra un po' una cagata Comunque Partiamo subito con La multisummon Partiamo giusto così Per vedere se magari Sculiamo insieme E troviamo una SSR però Oddio SSR È una SSR perché Lo sfondo dorato è una SSR Ed è Oh il re degli abissi Il re del sottosuolo Pazzesco La mia prima SSR in questo gioco Oddio Mi avete portato fortuna C'è l'1,3% di possibilità Di trovare un SSR Comunque vabbè Ottimo Poi vabbè un'altra rara che non avevo La talpa L'esperimento Quello lì Un SR addirittura pure Che Ah il gorilla Ok il gorilla Qua la combo Ovviamente i personaggi possono utilizzare delle combo Tra di loro Quindi se avete tipo I personaggi Che vi appaiono Su schermo Con La percentuale di feeling Sbloccherete praticamente Delle stats bonus Che prenderanno Quando giocheranno Nello stesso team È incredibile La mia prima SSR Pazzesco E tra l'altro Non è neanche male Come SSR Perché l'ho vista in azione Ed è Ed è abbastanza buona Ah ecco Forse perché era la La mia quinta multisamon Mi ha dato l'SSR Praticamente Ah ecco perché Ah ok Allora forse era questo O forse devo prendere O forse devo prendere Ah no ecco Qua mi sta dando un ticket Ah un ticket perché Ho summonato Una SSR Ok quindi Va bene Una sorta di rimborso spese Se si può dire così Infatti mi ha dato Un altro di quei ticket premium Per poter Fare la summon Ah quindi ecco Perché era la mia quinta Summon Mi ha dato l'SSR Perché se no Non l'avrei trovato Assolutamente Certo io man mano Ho giocato Ho accumulato ticket E ho fatto le summon Giusto perché In realtà volevo Volevo trovare Tornato del terrore Ovvero Tatsumaki Che penso sia Almeno Per quello che fanno vedere All'interno del gioco E soprattutto all'interno Dell'anime Una delle più forti Quindi Mi sembrava logico Dover ottenere lei Però aver preso Una bella SSR Io sinceramente Me la vado a portare Subito su E la porto subito A qualità verde Poi la faccio salire Ancora di livello E la portiamo A verde Con un Con un prisma La porto su E come potete vedere Le medaglie Servono per Appunto Far aumentare di grado Il vostro La vostra unità Ora se io voglio Andarmi a prendere Queste medaglie Però mi secco A farmi i livelli Se Precedentemente Avete ottenuto Lo status di perfect Quindi ottenuto Tre stelle Potete tranquillamente Mandare Seitama Premere il tasto sinistro E farvi completare Automaticamente il livello In modo tale Da farvi droppare Le medaglie Capito Sprecherete l'energia Perché Sprecherete comunque L'energia Che è solita Di questi giochini Che potete vedere In alto a destra Che sono Le specie di patatine fritte Che vedete Adesso ve le faccio vedere meglio Però Quella praticamente È la vostra energia Dato che Seitama il ghiotto Di patatine fritte Per l'appunto La sua energia Sono queste Ovvero le patatine fritte Che si possono comprare Ovviamente allo shop Si possono ottenere regalo Dai vostri amici Mandandogliele In questo modo Oppure Acquistarle dallo shop Per le gemme Ora giornalmente Potete fare una scorta Gratuita Di energia Quindi Io la faccio Perché Ovviamente mi conviene Saliamo ancora di qualità Il mio La mia SSR Perché Diciamo è l'unica che ho E adesso Come potete vedere La posso portare A qualità azzurra Perché dopo Le due stelline verdi Si passa alla qualità azzurra E poi dopo la qualità azzurra Non so effettivamente Quali altre qualità ci sono Perché Ancora con Genos E con tutti quanti gli altri Purtroppo Non sono Non riesco appunto Ad ottenere materiali tali Da poterli portare su Però Ecco Qui adesso posso forse ottenere No Qui ancora Devo continuare addirittura Quindi per il momento Magari lasciamo perdere Prendiamo altre ricompense Visto che là poi Otteniamo Buono Livello 24 Così là otteniamo Un altro ticket Qui prendiamo gemme Qui prendiamo altre medaglie Che mi servono assolutamente Allora torniamo indietro Un attimo Perché Non mi interessa Dato che sono arrivato Livello 24 Dove aver sbloccato Se non sbaglio Forse Il quartier generale Qual era questo? No livello 26 Si sbloccava Ok no Allora niente Andiamo a sistemare il team Eccolo qua Ecco Chi è che mi ha sostituito? Mi ha sostituito qualcuno? Ah mi ha sostituito Palla Si effettivamente ci può stare Come potete vedere con Genos Ho adesso il doppio bonus disponibile Perché appunto Ho i colori Che potete vedere qui a sinistra Tutti quanti riempiti Con uno slot di ogni personaggio Anche se dire la verità Io vorrei utilizzare anche Spat and Rider Che però si può sbloccare A livello 26 Quindi ormai manca poco Per sbloccare il sesto personaggio Di team E Spat and Rider Comunque è una carta Non comune Ma è davvero davvero buona Perché permette di boostare Il nostro limite di per due Quindi mi permette di fare Due special Ogni turno E dato che comunque Le special Soprattutto quelle AOE Come quelle della Della SSR Che abbiamo a disposizione Quindi Del Del re del sottosuolo Ci permette comunque Di avere un buon Un buon margine di danno Un buon margine di DPS Allora Andiamo ancora avanti Ecco E' salito un pochino Il mio Il mio Il mio livello Della squadra Quindi 9000 Ok Andiamo indietro Qua cosa c'è Abbiamo sbloccato qualcosa Ok Quindi altre ricompense Ovviamente il gioco Inizialmente Dà tante 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 ricompense Quindi Approfittatene Fate veramente Le summon Fate tutto quello che volete Approfittatene Perché Perché è tanta roba Allora Appresiviamo Con la nostra Tra virgolette Stora Aspetta Qua abbiamo le ricompense Di Sonic Vediamo se Ecco Prendiamoci qua Sonic E dovremmo avere anche Le ricompense speciali Ecco Qua l'ho già presa Qua però Forse no Ancora Esatto Ogni 388 gemme Possiamo prendere Vedete Due ticket E quindi Direi che non sono male Qui ha la stessa cosa Infatti Quindi qua altri 388 E qui invece 188 Dove mi danno Soltanto le gemme Per migliorare le abilità Che non è male A proposito di abilità Io devo migliorare Ecco Le skill Ah no Però aspettate Mi mancano Ecco Dobbiamo prendere I gettoni E miglioriamo Le skill Al nostro Re Del sottosuolo Qua invece Mi servirebbero Questo tipo di medaglia Ancora non ce le ho Quindi va bene Andiamo avanti Allora qua altre ricompense Buono E altro ticket per noi Vediamo se riusciamo A farci un'altra summon Alla fine di Di questo Cioè alla fine di questo episodio Andiamo fatemi vedere A quanti ticket Sono messo E già ne ho 4 No però non credo Di riuscire ad arrivare A 10 O Con le gemme Per poter fare Un'altra summon Non credo proprio Ah è vero Ancora devo sconfiggere lui Vediamo se adesso Riuscire Riusciamo A sconfiggerlo Allora la battaglia Abbastanza semplice Perché comunque Si svolge a turni Ve l'ho fatta già vedere Forse nello scorso episodio Però Adesso come potete vedere Sulla testa dei miei personaggi Abbiamo la spada La spada indica Il potere d'attacco in più Questo grazie appunto Al bonus effettivo di Genos Che se abbiamo un personaggio Di ogni colore All'interno del nostro team Ci possiamo In un qualche modo Fare più danni Iniziamo a fare Questo bel Colpo Aoe Che come danni Effettivamente Devo dire Non è assolutamente male Ha dato tra l'altro Status fiamma Ai miei avversari Quindi non male Assolutamente Devo fare assolutamente Fuori Prima questo Che è forse uno Di quelli più fastidiosi Ecco come danni Come potete vedere Già sto iniziando A farne Parecchi Ma veramente Parecchi Ne subisco Anche Perché ne subisco Però Forse Forse Riusciamo ad andare Avanti Allora qui adesso Non mi conviene Fare l'attacco Ecco Non mi conviene Fare questo tipo Di attacco Ma faccio L'incenerimento Di Genos In modo tale Da colpire Tutti e due In fila Esatto Quello lo eliminiamo Nice Tra l'altro Adesso dovrei Sbloccare Saitama E ci portiamo Via lui Il boss Saitama È una sorta Di summon Se dovessimo Paragonarlo Un po' Opera Omnia Quindi nel momento In cui si Carica Saitama Possiamo evocarlo E possiamo Permettergli Di eliminare Istantaneamente Un avversario Dato che lui Si chiama Per l'appunto One Punch Man E pone fine Agli scontri Con un solo pugno Ci permette appunto Di Portare fuori Dalla battaglia Un avversario Si può fare Una volta sola Durante Tutta Il combattimento Quindi non lo potete Fare sempre Infatti La barra Come potete vedere Di sedama Adesso non si sta Caricando più Però Madonna mia Quanti danni fa Madonna quanti danni fa Il re del sottosuolo È una bestia È infatti Miglior player Il re del sottosuolo Con quello che ha fatto Più danni e tutto E qui siamo riusciti Benissimo A Collezionare E qui chiudiamo il capitolo Perché l'abbiamo concluso Qui ci danno la ricompensa Per aver completato il capitolo Adesso In base alle stelline Che abbiamo Qui intanto Possiamo Ecco Possiamo fare anche la sfida Queste sono delle sfide speciali Purtroppo sto dicendo Tante cose Di fila So che il tempo Vola Però sono cose Che devo dirvi Per informarvi Queste sono delle sfide speciali Che vi permettono Comunque di reclutare Questo tipo di personaggio Infatti La regina La regina Delle zanzare Oppure la vespe queen Non mi ricordo Mi si chiamava È ottima come personaggio È una carta sr Quindi tecnicamente Non sarebbe difficile Da ottenere Però I personaggi Non si ottengono Solo dalle summon Ma si ottengono Anche dai puzzle Infatti Se io vi faccio vedere Se io vi faccio vedere Qui Ovviamente qua Prima prendiamo Le ricompense Se io vi faccio vedere Ora non mi ricordo Qual era la sezione A parte che abbiamo No dobbiamo sbloccare Lo scarabeo asura Ma quello Lo faremo a breve Ah ecco Da qua Come potete vedere Qua intanto metto Ah no Qua vi fa vedere Da dove potete ottenere Le summon Però Cioè da dove potete Ottenere le carte Però se io vi faccio vedere Anche Quelle che non ho Ad esempio Ecco Vi posso fare vedere Che Ecco Le carte Si possono ottenere Anche con i pezzi di puzzle Infatti Quando voi Riuscirete Ad ottenere Il numero Esatto Di pezzi di puzzle Per prendere il personaggio Avrete modo Di poterle evocare Gratuitamente Senza bisogno Di altre spese Ci sono personaggi Che possono essere Farmati Tra virgolette Tramite eventi O tramite Dei combattimenti speciali E altri invece Che possono essere Soltanto evocati Infatti Lei La regina delle zanzare Può essere O evocata Come potete vedere Sul bannerino sopra Di colore verde Oppure Reclutata tramite I pezzi di puzzle Sotto Come c'è scritto Sul Sul bannerino Rosso Infatti Se io clicco Sul bannerino verde Mi porta Nelle summon Dove è possibile Per l'appunto Ottenerla Mentre invece Se dovessi cliccare Sul bannerino rosso Mi porta al combattimento Che però Dato che io Ho concluso Con il perfect Posso mandare Seitama E quindi Come potete vedere Posso shottarla E ottenere E ottenere Ricompense Che sono O delle gemme Di potenziamento E se siamo Più fortunati Vediamo Se capita No Purtroppo Questa volta Non siamo stati fortunati Però se capita Possiamo Addirittura Prendere Dei pezzi di puzzle Nel momento In cui avremo Tutti i pezzi di puzzle Potremo Evocare La nostra Diciamo Il nostro personaggio Comunque Penso che per il momento Abbiamo fatto abbastanza Vi ho fatto vedere Un po' di tutto Effettivamente Quindi prendiamo Altre ricompense Io spero Che questi video Vi possano piacere Se è così Fatemelo capire Tramite visual Scrivete magari un commento Mettete like In modo tale Che io Magari vi possa portare Più contenuti Di questo gioco Quindi Per il momento è tutto Io vi ringrazio Al solito E ci vediamo Alla prossima